Ok, siamo online. Ciao Pasquale, piacere. Ciao Alessandro, grazie, grazie dell'invito. Siamo qua perché Nemo Group sarà partner dell'iWeek dal 17 al 21 aprile, sarà un tre giorni online e due giorni offline a Rimini, corretto? Esattamente, 17, 18, 19 aprile online e soprattutto 20 e 21, ci vedremo a Rimini, Alessandro. Ok, e in questo video faremo un po' di divulgazione su un tema che è ancora abbastanza sconosciuto in realtà, ovvero quali sono le varie applicazioni dell'intelligenza artificiale nel mondo franchising. Noi, essendo una società che lavora sullo sviluppo e la regeneration dei franchisor, eccoci qua. Allora, partiamo da un dato che leggevo online l'altro giorno. Allora, nel 2022, secondo Euromonitor, l'80% dei beni è stato acquistato ancora nel settore retail, quindi nonostante l'enorme incremento, dato dalla pandemia a tutta la parte di e-commerce, l'80% degli acquisti viene ancora effettuato all'interno dello store. E qui si collega inesorabilmente il settore franchising, perché la maggior parte dei franchisor sono ad oggi retail. Come si va a integrare l'intelligenza artificiale con questo trend qua? Ma intanto salutiamo, insomma, saluto tutti gli imprenditori che sono qui, che stanno guardando questo video. L'intelligenza artificiale è una tecnologia oggi a disposizione anche per gli imprenditori italiani, a disposizione anche per gli imprenditori che, come dire, non hanno delle grandi multinazionali da gestire, perché a volte il tema dell'EI può sembrare un tema legato solo per chi ha grandi disponibilità di budget, ha grandi disponibilità di dati, sì, quelli servono, ma poi ci arriviamo, e anche, ad esempio, ha a che fare con dei problemi abbastanza importanti, quindi una necessità di calcolo importante. Oggi l'intelligenza artificiale, invece, proviamo a sloganarla, è a disposizione anche degli imprenditori che hanno, ad esempio, un'attività come il franchising. Perché? Perché in realtà c'è l'intelligenza artificiale che sta facendo grandi cose per il store, per i punti vendita, per chi vende un prodotto fisicamente o un servizio lì ad un cliente all'interno di un posto fisico. E qui ci sono tanti ambiti, Alessandro, possiamo parlare dall'intelligenza artificiale che aiuta quell'imprenditore a capire se il cliente è soddisfatto o no, che aiuta a cercare nuovi clienti, che aiuta a prevedere eventualmente come si muoveranno i miei clienti in virtù di un aumento, di un calo di prezzi, quindi aumento o calo della domanda in relazione magari a come cambia la mia offerta, oppure ancora per cercare di capire se, ad esempio, in zona ci potranno essere delle frodi, e quindi ad esempio, non so, banconote false piuttosto che taccheggio e così via. Ce ne sono tanti, questi sono solo alcuni esempi, magari adesso entriamo più nello specifico. Sì, cosa intendi per più accessibile, Pasquale? Io stesso che noi siamo una startup e vediamo anche noi l'intelligenza artificiale in Italia come qualcosa di ancora un po' lontano. Cosa intendi però con... queste cose secondo me servono proprio per andare a comprendere quali sono le reali applicazioni. Ci sono dei SaaS, ci sono dei software adatti a tutti. Quale potrebbe essere il primo step per un'azienda per applicare l'intelligenza artificiale nei suoi processi, il primissimo step? Allora, intendo accessibile, intendiamo accessibile, intanto partiamo dal presupposto che io insieme a Giacinto Fiora siamo divulgatori e ci occupiamo di parlare, di divulgare, di raccontare l'intelligenza artificiale spiegandola semplice. Così si chiama la nostra community e che poi ha dato vita all'evento AI Week. L'AI è diventata accessibile per una serie di fattori. Innanzitutto non parliamo di tutti i tipi di intelligenza artificiale che possiamo applicare, parliamo di quelle tecnologie che sono applicabili ad esempio ad uno store, oppure ad esempio a medici utilizzabili dai medici, oppure ad esempio utilizzabili per fare delle attività di ricerca. Ritornando, come dicevamo prima, al lato store, sì, esattamente, ambito per esempio SAS, quindi tecnologia che adesso non necessita di super computer per essere utilizzata da un imprenditore lì nel suo store, ma è possibile ad esempio aprire una finestra del proprio browser perché è in SAS, assolutamente. Altra tipologia di accessibilità è sicuramente la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale, non disponendo di grandi budget, perché ci sono già delle soluzioni cosiddette a scaffare, cioè già pronte che svolgono determinate funzioni, non ti fanno, come dire, il caffè, ma piuttosto sono in grado di svolgere dei compiti, lo fanno molto bene, e poi il terzo livello di accessibilità, secondo me fondamentale, non sono complesse, non sono complicate proprio a livello di linguaggio, di utilizzo. Non è una tecnologia, o meglio, in questo caso non lo è più, una tecnologia solo per gli addetti ai lavori, una tecnologia solo per i tecnici. Parliamo quindi di soluzioni che un retailer, un imprenditore, può assolutamente acquistare, a volte anche a canone, tu immagina, può acquistare a canone un software e un tool che può aprire lì nel suo punto vendita e tra una situazione all'interno del negozio e l'altra, magazzino, fornitore e clienti, può magari cercare di monitorare come sta andando la soddisfazione dei propri clienti, legata al suo brand, ad esempio. Perché ricordiamoci, uno degli aspetti più importanti dell'intelligenza artificiale e che riesce a comprendere, nella maniera, come dire, più addestrata possibile, quindi nel momento in cui questa intelligenza artificiale è stata progettata e addestrata con i dati giusti, riesce a comprendere, ad esempio, se siamo soddisfatti o no di un prodotto, oppure se siamo tristi o ancora se siamo arrabbiati rispetto a un brand, semplicemente leggendo delle righe che magari abbiamo scritto su Facebook. Ho capito. E ricollegandoci a questa parte qua, sempre di assistenza cliente, lì si va ad aprire tutta una parte enorme sui chatbot, corretto? Assolutamente. Quanto è importante oggi essere presente 24 su 24 ore al giorno con i clienti? È fondamentale, è fondamentale perché basta guardare un po' all'indietro la nostra giornata o la giornata di ieri o quella di avanti ieri. Com'è andata? Nella maggior parte dei casi gli imprenditori sono presi da tante cose, chi non è imprenditore o è cliente di un retailer ha comunque la sua vita, va al lavoro, ha i figli, va in palestra, non so, deve uscire il cane a fare cose, e quindi ha un'enorme quantità di attività in testa da fare, deve fare una spesa e altro. Ma quando prenoto quell'attività lì da quell'estetista dal parrocchiere, ma quando vado a comprare i regali di Natale, mi devo ridurre anche quest'anno all'ultimo? Ecco, lì in queste micro sezioni di giornata può intervenire l'intelligenza artificiale, come ad esempio con i chatbot. Ecco, la parola chatbot in realtà si è evoluta nel tempo. Oggi, come dire, è più completo parlare di assistenti, assistenti virtuali, assistenti virtuali che possono essere poi di tante forme, possono avere delle sembianze umane, e quindi ci sono ad esempio dei retailer, dei franchising, che hanno fatto dei propri assistenti una vera e propria figura umana, un avatar, oppure ancora possono stabilire un contatto negli strumenti che utilizziamo di più. Basti pensare a WhatsApp o basti pensare al telefono. E quindi prendere delle prenotazioni anche in momenti della giornata in cui il negozio è chiuso, oppure fare assistenza in momenti della giornata in cui il mio punto vendita è chiuso. Io ho delle persone, io imprenditorio, ho delle persone che magari rispondono al telefono, fanno assistenza, sì, ma in alcune ore. E allora, nelle altre ore, faccio lavorare un chatbot. Oppure ancora, se vogliamo essere a questo punto del tutto evoluti, faccio fare al chatbot tutta quell'attività. E a quell'assistente, quella mia persona, faccio fare un'attività di valore aggiunto. E quindi magari far seguire dei clienti che mi portano più fatturato. Quindi creare, come dire, una sorta di assistenza d'elite. E quindi dare la possibilità di, come dire, settorializzare la mia assistenza. Quindi un primo livello me la fa il chatbot, mi prende le telefonate, mi prende le prenotazioni, cerca di risolvere un primo livello di problemi. Di secondo livello, quindi quando il problema si fa più strong, oppure quando invece devo dare assistenza ad una mia cliente, un mio cliente un po' più importante, perché magari è anche legato, non solo dal fatturato, ma anche da altre dinamiche di collaborazione, allora lì ci metto la mia persona, che ha più empatia, che ha più valore aggiunto su quell'attività. Questo ad esempio è uno dei tanti esempi delle attività che può svolgere un chatbot. Noi nel nostro osservatorio abbiamo istituito un network di aziende italiane che fa intelligenza artificiale, abbiamo una forte presenza di realtà italiane che svolgono in maniera eccellente questo compito. Cioè hanno sviluppato tecnologia italiana che è in grado di comprendere il linguaggio umano e cercare di dare la migliore assistenza. È perfetto per un retailer. Esatto. E poi tutto quello, se viene a mancare l'assistenza, la maggior parte delle recensioni negative e critiche ai brand viene proprio dal servizio post vendita. Quindi se viene a mancare questa parte qua, questo porta critiche, cattive recensioni online. ne stavano chiacchierando prima di far partire la registrazione che una cattiva recensione un francesi va a influire sulla brand reputation del francese. Può pesare tanto, può pesare tanto assolutamente. A volte è meglio come dire, ok, l'errore può succedere, va bene. L'errore può succedere, succede a tutti, succede ai grandi brand, succede ai piccoli brand. Il punto è come agisci e come reagisci a quell'errore. Quanta attività fai per recuperare quel cliente? Quanta attività fai nei tempi? Perché non ha senso chiamare il cliente insoddisfatto dopo una settimana. Se lui già ti ha fatto una recensione, se ti ha lasciato una recensione, è in quel momento che devi intervenire. Parliamoci chiaro. In realtà dovresti intervenire prima. E con lei lo puoi fare, perché puoi monitorare ad esempio il tono e le emozioni che ti sta dando quel cliente all'interno di una telefonata o magari all'interno di un messaggio che ti scrive. Se il cliente è incazzato, forse puoi già capirlo prima. Ma va bene, facciamo che ha lasciato già la recensione. Da quel momento devi intervenire. Quindi, prima cosa, il monitor allerta su quelle che sono ad esempio su quella che è la mia presenza sul web. Quindi qui l'AI ti può aiutare a scovare dove c'è un tono di voce, dove c'è un'emozione negativa nel web. Questo è molto importante. Assolutamente. E il punto vendita singolo, spesso è talmente indaffarato che non riesce a fare tutte queste cose. Quindi per forza deve intervenire alla casa madre con un supporto che nel migliore dei casi è proprio l'intelligenza artificiale per dedicare giustamente altre risorse a lavori più a valore aggiunto. E quindi passando proprio dal punto vendita singolo alla casa madre. Dicevamo prima che sono inoltre moltissime le applicazioni dell'intelligenza artificiale oggi che utilizzano marchi come McDonald's, come Remax, a livello sia predittivo che a livello di analisi big data. Sì, assolutamente. Qui facciamo uno step, come dire, ecco, se passiamo a casa madre, qui abbiamo, come dire, già una risorsa fondamentale che sono i dati e ne abbiamo tanti. Perché poi nei momenti in cui, ad esempio, ho citato McDonald's, parliamo di un creatore di dati, uno sniffatore di dati gigantesco, parliamo di una multinazionale, ma ce ne sono anche tanti brand molto noti, molto grandi, che quindi hanno la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale come dire, ad un livello successivo. Perché dispongono di tanti dati. McDonald's fa tantissima ricerca in ambito AI. Abbiamo, io e Jacinto, abbiamo personalmente conosciuto il capo dell'innovazione global sull'intelligenza artificiale di McDonald's ad un evento a Londra. Lui ci ha raccontato davvero dinamiche incredibili. Cercano di prevedere quelle che sono le risposte che avranno i loro consumatori e quindi anche il fatturato che faranno all'interno dei punti vendita nelle varie geografie in cui loro sono posizionati a seconda del cambio o no dei menu, a seconda del cambio o no degli ingredienti. Non è un caso del perché al McDonald's in Italia c'è il crudo di Parma e quindi in tv sentiamo, spero di non aver sbagliato, ma insomma ci sono prodotti italiani all'interno del panino e invece in Spagna c'è un'altra tipologia o ancora in Inghilterra un'altra. Perché c'è uno studio, c'è uno studio che viene dai dati. I consumatori, quindi noi, siamo dei produttori di dati, ma lo facciamo, come dire, e lo diciamo anche senza malizia. Se consideriamo questi dati e l'utilizzo di questi dati in maniera giusta ed etica, si possono fare tante cose positive. Scegliere quali sono le preferenze da mettere all'interno di un panino piuttosto quale deve essere il colore della t-shirt l'anno prossimo oppure la dimensione e i colori del mio intimo, perché magari il mio franchising si occupa di questo, viene anche da questo, viene anche, ad esempio, da come rispondono i miei consumatori agli input che lascio passare attraverso l'influencer. Io ho degli influencer perché sono un franchising e quindi passo all'influencer del materiale, inizio a dare dell'input alla rete e questi influencer iniziano a raccogliere delle reazioni. Devo pesarle queste reazioni, devo cercare di capire se correggere o no il tiro rispetto alla produzione di quella nuova linea autunno-inverno di pigiami della nuota marca franchising e così via. E questo è molto importante in un modo in cui oggi la produzione è vero che è stabilita mesi prima, per esempio, a livello di abbigliamento, ma in realtà si stanno accorciando molto i tempi, ad esempio rispetto alle colorazioni, oppure ad esempio rispetto al pricing. È molto utile cercare di capire come tutti questi dati possono darmi una mano. E qui, casa madre, ritornando al discorso di prima dei franchising, sicuramente ne trae il maggior vantaggio nell'utilizzo delle AI. Chiaro, chiaro. E riprendendo ancora un attimo i dati, abbiamo nel 2027, si dice che il 10, o meno, i dati dicono che il 10% delle transazioni sarà transata in blockchain, che l'intelligenza artificiale avrà un giro d'affare di 15 trilioni di dollari. Ma se io sono un franchisor oggi che non è ancora entrato in questo mercato e capisce che è il momento corretto, non è più il momento degli adattatori precoci oggi, ma è il momento in cui ha senso adottare queste tecnologie perché portano dei risparmi, portano dei risparmi a livello amministrativo, a livello di processi di gestione. Quale sarebbe il primo passo concreto che faresti tu? Allora, non ti faccio una marchetta, Alessandro, non la faccio a chi ci sta guardando. Il senso dell'evento AI Week è questo. L'evento AI Week non è un evento fieristico, non è la fiera dell'intelligenza artificiale, no, assolutamente no. È un evento pensato per quegli imprenditori che hai appena descritto, cioè per quegli imprenditori che credono nel fatto che l'intelligenza artificiale generalizziamo. La tecnologia può dargli davvero una mano in azienda. Infatti, Alessandro, l'evento AI Week sarà la quarta edizione, non te ne parlo come se fosse qualcosa di sperimentale. Ci saranno, da un lato, gli imprenditori che utilizzano l'intelligenza artificiale e ne racconteranno, racconteranno come la stanno usando. Non nel linguaggio tecnico, ma ti racconteranno i benefici. Lì ci saranno aziende come Pfizer, ci sarà Microsoft, ci sarà aziende nel mondo del retail, del real estate, aziende nel mondo dello spazio, ma ci saranno anche imprenditori e manager di startup che racconteranno quindi come la stanno usando. È un primo approccio per quegli imprenditori che dicevi che vogliono cercare di capire qual è il primo passo e sicuramente lasciarselo raccontare da chi la sta usando. Perché questa è la cosa più importante. Cerchiamo di capire quali sono i benefici. La prima cosa. La seconda cosa, alle AI Week troverai chi ne ha e la fa. Quelle famose aziende italiane, non solo che le hai e la fanno, che le hai, per loro è un business importante, ma soprattutto, come dire, ce l'hanno a cuore e sanno, conoscono il cuore di quell'intelligenza artificiale. È importante anche conoscerli per iniziare a relazionare, perché quelle aziende, che saranno i principali sponsor e speaker dell'evento, porteranno i casi di successo lì. Quindi, ripeto e sottolineo, non ci sono formule matematiche, non ci sarà da imparare a sviluppare Python o qualcuno che ce lo spiegherà. Assolutamente no. Gli imprenditori curiosi, gli imprenditori innovatori, verranno alle AI Week, quindi il mio invito è, non fatevelo sfuggire, almeno per la prossima edizione, per cercare di comprendere, rispetto alla propria esigenza, come posso utilizzare questa tecnologia. E chiudo con una cosa bellissima. Stiamo sviluppando un'applicazione, ovviamente utilizzando un'intelligenza artificiale, che darà la possibilità a questi imprenditori di non perdere assolutamente tempo, perché nel pomeriggio ci saranno 120 tavolini per fare networking. E con questa applicazione, l'applicazione ti guiderà, in base a chi è secondo te, i sogni che hai, la persona giusta, l'imprenditore giusto con cui parlare, perché lui saprà dirti come usare le AI nel tuo business. Quindi, se tu sei un retailer di scarpe, un franchising di abbigliamento, piuttosto che di estetica, o ancora di intimo e così via, quello che è, ci saranno sicuramente lì degli imprenditori che utilizzano le AI e potranno raccontartela, e quindi scoprirai come utilizzarla meglio. Questo è il primo passo. Non avrebbe senso oggi farmi un corso per cercare di capire come si fa le AI o che cosa c'è sotto le AI, se io faccio l'imprenditore, se io ho un franchising. Quindi, a questa platea io suggerisco questo. Perfetto. Grazie Pasquale. Allora ci vediamo alle week, dal 17 al 21 aprile. Ci vediamo alle week. So che voi avete un fantastico benefit, insomma, un coupon da dare a tutte le persone che vogliono partecipare, quindi utilizzatelo e ai week.it. Intanto, grazie Alessandro, ci vediamo a Rimini. Grazie a te Pasquale. Ciao. Ciao. Grazie a te Pasquale. Grazie a te Pasquale.